ciao amici cosa prendete di solito a colazione solo un caffè via scrivetemelo nei commenti io solo un caffè altrimenti ingrasso squaletto invece una bella brioche alla crema perché lui è un mangione e fammi indovinare alle 10 avete già fame mangiare poco o niente o solo dolci a colazione è un'abitudine sbagliata che hanno in molti e non lo dico solo io ma le più recenti ricerche in campo nutrizionale condotte dagli esperti di harvard comunque se volete stare leggeri a colazione ma comunque fare una colazione sana e nutriente una delle soluzioni migliori è mangiare la frutta ricca di vitamine e veloce da preparare vediamo allora insieme i benefici della frutta a colazione e qualche ricetta per voi se vi piace l'idea mettete mi piace e arrivate fino alla fine c'è un regalino per voi e se volete aumentare il vostro stato di benessere e raggiungere livelli di energia salute e vitalità mai toccati prima potete seguire il link qui sotto in descrizione e scoprire il mio programma esclusivo con la sinergia di salute naturale molti preferirebbero una fetta di torta a una mela o una banana per fare colazione ma ricordate che i dolci specie industriali non apportano nutrienti ma solo calorie zuccheri e grassi non saziano e sicuramente un'ora più tardi ci troveremo affamati e a corto di energie la frutta invece è ricca di fruttosio uno zucchero davvero facile da assimilare è ottimo per il cervello nelle prime ore del giorno inoltre è ricca di acqua fibre vitamine e sali minerali che aiutano l'idratazione e favoriscono il corretto funzionamento dell'intestino la frutta va accompagnata una fonte di proteine magre e grassi insaturi come quelli della frutta secca quali sono i frutti più adatti da mangiare a colazione ecco alcuni esempi pompelmo uva rossa arance mandarini kiwi fragole banane ananas anguria melone pesche pere mele prugne lamponi ciliegie vediamo qualche ricetta e combinazione da provare fiocchi o crema di avena con fragole tagliate a pezzetti e kiwi succo di papaya naturale con mela e noci yogurt greco naturale e pesca tagliata a pezzetti accompagnato da succo di pompelmo insalata di spinaci con pezzetti di ananas e noci e succo d'arancia succo di pera naturale pezzetti di anguria melone e mandorle macedonia di arancia condita con un cucchiaio di miele accompagnata da tè verde banana tagliata a fettine con un po di miele e succo di mela naturale fiocchi o crema di avena con yogurt greco e prugne a pezzetti e succo di mela frullato di fragole accompagnato da pesche a fettine noci e uva passa squaletto dice che ha paura di non mangiare abbastanza per i più mangioni e per chi ha uno stile di vita intenso si possono abbinare alcuni prodotti proteici io lo faccio spesso perché al mattino ho molta fame personalmente uso le proteine in polvere della food spring da aggiungere al latte vegano o succo e la colazione di buddha della isvari con cui preparare creme golose in cui tuffare frutta fresca in pezzi e frutta secca vi lascio i link in descrizione insieme ai miei codici sconto esclusivi per risparmiare su tutti i vostri acquisti fare colazione con la frutta anche se può sembrare strano all'inizio poi diventa un'abitudine golosa a cui non vorrete più rinunciare bene amici oggi abbiamo visto tutti i benefici di mangiare la frutta a colazione commentate il video condividetelo iscrivetevi al canale e attivate tutte le notifiche in descrizione trovate anche il sondaggio sul dimagrimento per aiutarmi a fare contenuti sempre migliori che rispondono alle vostre esigenze ed ecco il regalino di oggi la checklist con i consigli per mangiare frutta a colazione senza carenze link in descrizione qui sotto vivi consapevole e vivi meglio con la sinergia di salute naturale di simona vignali